Ragazzi oggi ecco a voi finalmente il vlog da Singapore che stavate aspettando Oggi saliamo in cima al Marina Bay Ciao a tutti ragazzi bentornati su Sam's Travel Vlog Oggi si inizia la vera visita di Singapore Sono le 10 di mattina fa un caldo bestiale io sono un po' arrabbiato devo dirvi Perché ieri a Kuala Lumpur io ho perso il mio treppiede della macchina fotografica Non che valesse tanto cioè era un cosa da 10 euro Però mi dispiace perché era il mio primo treppiede è venuto con me in tutto il mondo E adesso resterà per sempre in Malesia Va beh andiamo dai Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi guardate com'era Singapore solo non tantissimi decenni fa E guardate invece com'è ora Grazie a tutti 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 Ragazzi vedete quell'edificio nero laggiù in fondo Ecco quello lì al mio hotel Tra l'altro ragazzi non so se riuscite a vedere quell'isola laggiù in fondo Ecco quella la è l'Indonesia Grazie a tutti Non so se riuscite a vedere che la stagione è la statua del Mer Lion il simbolo di Singapore Non so se riuscite a vederlo ma la percordo la sotto bianco è una statua è la statua del Mer Lion il simbolo di Singapore ora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adios Marina Bay, tornerò presto. Grazie a tutti. Ciao ciao Marina Bay, giuro che tornerò presto. E questa ragazzi è stata la mia esperienza in cima al Marina Bay Sands di Singapore. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale, commentate con quello che ne pensate e condividete il video per farlo vedere anche ai vostri amici. E noi ci rivediamo molto presto con una nuova puntata di Sennel Sud-Est Asiatico. Però ci sono moltissime altre rubriche del canale da portare avanti e quindi noi ci rivediamo settimana prossima qui sul canale con un nuovo video. Come sempre ragazzi, grazie mille di tutto l'affetto che date a me al canale e noi ci rivediamo sabato prossimo alle 14 con un nuovo video qui sul canale. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao!